La cosa che più conta nella vita? Non ho alcun dubbio, è il nostro atteggiamento mentale. Sì, perché noi non possiamo sapere esattamente quando accadranno le cose, cosa accadrà, se accadrà esattamente quello che abbiamo immaginato oppure se saremo investiti da qualcosa di assolutamente imprevedibile. Questo non possiamo saperlo, non è nel nostro controllo. Invece ciò che possiamo assolutamente controllare, definire, allenare e potenziare è senza ombra di dubbio il nostro atteggiamento mentale. E no, non intendo essere positivi sempre e a tutti i costi. A volte ci sono situazioni dove magari non c'è nulla di positivo o non c'è bisogno di essere positivi. Però avere fiducia sì. Ecco, la fiducia è in assoluto il più grande acceleratore di successo e di benessere che abbiamo tutti in quantità illimitata e fra l'altro anche gratuita. Quindi si tratta davvero di allenare l'atteggiamento di fiducia che ci garantisce di connetterci con quello che accade, di connetterci con le cose e con le situazioni e di trarre assolutamente il meglio da ogni nostra interazione con l'ambiente.